Una delle ricerche etnografiche più grandi che ha fatto nella vita è stato scoprire come veniva fatta la grappa a Percotto. Questo succedeva non molti anni fa, lui è morto a 102 anni, ma la cosa curiosa di questo premio è, questo me l'ha raccontato tua mamma, è quando gli è stato comunicato che doveva ritirare un premio nonino. Giannola è partita, è andata con un'amica a Parigi e ha suonato, io mi immagino... Con la signora Altan! Con la signora Altan! Io mi immagino questa scena in cui il più grande antropologo di tutti i tempi, conteso dalle università più importanti del mondo, vive a casa sua a Parigi e Giannola suona il campanello Levi Strauss e lui risponde e lei gli dice guarda che hai vinto il premio nonino. Ci vogliamo a Percotto, lei parla francese, quindi lei gli disse noi saremmo onorati di averla a Percotto per il premio e lui insieme alla moglie Monique e in questo devo dire che la signora Mara Altan è stata fondamentale perché è riuscita ad avere il numero di telefono e l'indirizzo e la storia è molto anche molto carina perché per andare alla ricerca di questo importantissimo e straordinario antropologo dovettero andare a Parigi di persona perché l'editore disse ma non verrà mai, cioè noi neanche ci proviamo a contattarlo e la mamma partì appunto con Mara Altan, arrivarono a Parigi e in quei giorni c'era all'Odeon, Teatro d'Europa, uno spettacolo con Tognazzi e quindi hanno detto ma proviamo ad andare a vedere se riusciamo ad avere un biglietto, si presentano, arrivano dentro nell'atrio e vedono Marcello Mastroianni, Marcello Mastroianni mia madre ovviamente va incontro e dice signor Marcello io sono la sua grandissima ammiratrice, sono Giangolo Anonino, faccio la grappa e mi inchino alla sua bravura, bellezza, insomma tutto al suo fascino e lui disse signora ma sono io che mi inchino, io adoro la sua grappa, questa è rimasta nella storia della famiglia ovviamente nel cuore perché poi con Marcello Mastroianni è venuto a Percotto, ci siamo incontrati in alcune occasioni e siamo andati anche a vederlo quando è venuto con le ultime lune quando è stato in tour nel nord in tutta Italia ed è arrivato appunto anche a Trieste, era una persona veramente straordinaria. Sì io rimango ancora nella scena in cui tua mamma spiega dove è Percotto all'Eddy Strauss, lì non so in quanti siano intervenuti però lui poi è arrivato e ha scritto questa cosa bellissima che trovate anche sul sito della Nonino, se no mi procuro io una fotocopia in cui descrive la produzione della grappa come una delle cose più belle dell'antropologia che lui abbia mai visto insomma. Bene, dobbiamo iniziare a bere perché la gente comincia a bere sete. La versione peraltro si chiama Genola Style per un motivo specifico perché siccome la mamma trovava l'aperitivo Nonino con il nostro amaro Nonino Quintessenza col bitter un pochino lo trovava, dice ma manca qualcosa secondo lei, era troppo 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 delle bollicine, le bollicine lo rendono ancora più fresco, ancora più piacevole, spero che piaccia anche a voi, si può fare anche una versione per chi lo desidera un po' meno alcolico, aggiungere un po' di acqua tonica, no no no, qua dobbiamo bere alcol, mi spiace, con tutto il bene che vi voglio ma fate cose che non hanno meno di 40 gradi, facciamo fatica. 35, la mamma Nonino 35, sempre responsabilmente, sempre responsabilmente e abbiamo testimonianza Gaia che è qui solo per farmi vedere che lei non berrà niente tutta la sera, serviva e questo è minorenne. Allora possiamo partire con la musica, poi vi presenterò anche le ragazze, il prossimo intervento quando vi presenteremo il prossimo cocktail è molto più breve perché Antonella che farà finalmente la sua parte è giovanissima, quindi la sua vita è molto breve, sarà veramente un racconto di quattro parole. Vi lasciamo con la musica e ci fate vedere il braccialetto e cominciamo a servire il cocktail a tutti quelli che hanno il braccialetto giallo. Grazie.